Una bella vittoria per voi, non vincevate in casa da un bel po', da un paio di mesi, quell'1-2 micidiale ad inizio ripresa ha indirizzato la partita, l'ha vinta dove il Lettre Stina questa gara? Premesso che c'era l'incognita di rigiocare dopo 40 giorni, quindi è vero che c'era la sensazione insieme allo staff di vedere una squadra in salute sotto tutti i punti di vista, fisico, tattico, mentale, con la voglia di riniziare, però comunque c'era sempre quell'incognita dovuta allo stop forzato. L'abbiamo vinta, l'hanno vinta i ragazzi, perché hanno interpretato al meglio le cose che si sono fatte in settimana, avevamo studiato come si fa sempre la squadra avversaria, i loro punti di forza, sono stati bravi, hanno interpretato la partita nel miglior dei modi e poi soprattutto secondo me dal punto di vista caratteriale ci hanno messo quel qualcosa in più. All'inizio è stata un po' di sorpresa la scelta di Esussin e Panchina, poi visto l'opera Morlandi insomma si è capito perché aveva preso questa decisione. Ma io parlo ai ragazzi, gli parlo che per me dall'inizio che cerco di trasmettere questo messaggio perché è un po' difficile, soprattutto nell'ambiente dilettantistico, per me non ci sono titolari, è vero che tutti non sono uguali, c'è quello più importante, quello è l'over, c'è quell'esperto, ci sono i giovani, però per me veramente li consiglio tutti i titolari che possono dare la mano e questa mentalità pian piano la stanno acquisendo e sono uguale, veramente sono contento al di là dei risultati per questo qua. Esussin per noi è un giocatore fondamentale dentro e fuori dal campo. Grazie a tutti.